Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, un Decameron dei nostri tempi che, con uno stile feroce e comico allo stesso tempo, dà voce all'urgenza umana di raccontare e raccontarsi, celebrando così il potere delle storie e dei libri che le contengono. La trama del libro 14 giorni della scrittrice Margaret Atwood, pubblicato dalla casa editrice Ponte Alle Grazie, è la seguente. New York, 2020, appena stabilita nel palazzo come Portinaia, Jesse, una giovane donna figlia di emigrati rumeni, trova nel suo appartamento la Bibbia del Fernsby. Una specie di diario del precedente custode dove sono annotati i nomi di tutti gli inquilini, informazioni sulla loro vita e sul loro carattere. Alla fine, alcune pagine bianche sono a disposizione per il prossimo amministratore. I condomini si riuniscono tutte le sere, verso il crepuscolo, sul terrazzo, per scambiarsi due parole prima di andare a dormire. Ben presto, queste serate si trasformano in vere e proprie sessioni di racconti. Ognuno, a turno, prende la parola e narra una storia, reale o di invenzione. Jesse decide così di registrare segretamente per 14 giorni i racconti di ogni inquilino, per poi trascrivere tutto sul suo quaderno. Le serate passano in un crescendo di tensione, finché un'ultima sanguinosa storia di vendetta non chiarirà inaspettatamente tutti i dettagli rimasti in sospeso sulla misteriosa custode. Con la maestria dei grandi narratori, Margaret Atwood e Douglas Preston tessono una trama composta dai contributi dei migliori autori contemporanei. A ognuno dei quali è affidata la scrittura della storia di un inquilino del palazzo. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.